Buonasera ben ritrovati cari tespettatori in questo spazio di approfondimento e naturalmente vista anche la stagionalità parliamo di un argomento molto molto attuale parliamo di piante e ritroviamo qui in questo spazio graditissimo ospite Sauro Allegrezza che molti di voi già conoscono buonasera Sauro buonasera a voi ben ritrovato grazie è un po che mancavi dai nostri studi ti siamo mancati molto molto cercato bene bene anche anche a noi tuoi consigli ci sono mancati molto perché l'anno scorso abbiamo fatto due puntate molto belle che parlavano di tanti argomenti interessanti le zanzare ma soprattutto anche la cura degli olmi e degli alberi che hanno problemi di insetti infatti Sauro è un fitoiatra è amante anche del verde lo fa per professione ma poi ha anche come dire a cuore le sorti di diverse piante chi ha seguito le puntate passate si sarà accorto abbiamo fatto vedere un prima e un dopo ve le rifacciamo vedere anche in questa puntata per farvi capire che insomma il metodo che usa Sauro è un metodo estremamente efficace ha ripreso se non ricordo male una vecchia metodologia che si faceva una volta tu l'hai un po modernizzata alle spalle vedete alle mie spalle da questa parte c'è un albero è un olmo questo un olmo centenario che ha delle bottigliette normalissime bottigliette d'acqua da mezzo litro minerale con un intruglio rosso e delle cannucce che vanno dentro l'albero ecco questa è la sua metodica che ha portato bei bei risultati vediamo una foto abbiamo delle foto che Sauro ci ha portato eccola qua questo è l'olmo che hai alle spalle curato curato con il tuo metodo con il mio sistema e il cliente mi ha mandato un whatsapp una settimana fa per ringraziarmi dicendo bello il mio olmo grazie e sono cose che ti riempiono d'orgoglio insomma non è certo e certo perché al di là di tutto con il verde con la natura bisogna avere anche un grande trasporto emotivo un grande amore se non c'è questo che ti muove difficilmente le cose ti riescono bene e Sauro è uno che ci mette il cuore in quello che fa ecco avete visto la terapia ha funzionato e quello bellissimo olmo così con quella chioma così rigogliosa così verde insomma la foto è una foto che perlomeno rende l'idea ecco di come sia stata efficace la terapia che hai fatto e poi naturalmente ho avuto anche piante messe peggio di queste insomma e ogni volta la terapia insomma si è dimostrata efficace e poi adesso se andiamo avanti le vediamo insomma certo è perché la cosa bella di questo di questo metodo che Sauro applica è che i risultati sono tangibili cioè non è una cosa empirica perché fai l'applicazione dopo un tot di tempo lui rifà la foto allo stesso albero e si vede subito ci ha funzionato no e qui c'è portato altre foto si è adesso l'orgoglio mio è un olmo che era secco praticamente capitozzato e questo eccolo qua era secco capitozzato era dato per spacciato gliel'ho fatto l'ho curato dico tanto per tanto per tanto per questo era ad aprile era praticamente alla fine d'aprile e poi l'ho rivisto e l'ho rivisto agosto eccolo quindi già qui è partito un po ad agosto l'ho rivisto e sono rimasto stupito io stesso insomma e poi dopo sono ritornato a rivederlo quest'anno a inizi maggio ecco qua questo a inizio maggio l'olmo aveva ripreso qui ci sono ancora le bottigliette attaccate no 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 questo è a posto non ho fatto più niente quindi qui è partito però però l'ho visto tenero e io ho detto all'agricoltore c'è questo che è l'agricoltore ho detto guarda se vuoi salvare l'agricoltore c'è una villetta c'è una villa io ho detto se vuoi salvare l'olmo io ho detto però devi trattarlo un trattamento annuale va fatto di conservazione ecco e lui non me l'ha fatto dopo io sono tornato a vederlo perché volevo fare l'altra foto per fanno tv perché sarei venuti da da voi e mi sono trovato ecco qui lì c'è un rametto secco in mezzo vedete e praticamente l'insetto lo scolitide quello che provoca la grafiosi dell'olmo che è una malattia fungina praticamente viene trasmesso da questo insetto eccolo qua questo è il responsabile io appena mi sono accorto che c'era sta rametta secca ma subito all'armi io ho detto ma ti ho detto di guardarla perché praticamente il coleottero praticamente più c'è vento più viene spostato e quindi perché praticamente è pesante però col vento e quindi attaccato sta piantina giovane adesso lì non non ho rifatto le bottigliette perché è una spesa però gli ho rifatto un trattamento su chioma che costa molto meno costa tre quattro volte meno che un trattamento tre volte meno che un trattamento con le bottigliette per quello con le bottigliette è laborioso e praticamente l'ho risistemata la pianta ecco adesso è a posto beh insomma la foto come dicevo all'inizio rende giustizia di tutto quello che viene fatto perché avete visto una bella chioma verde rigogliosa però insomma bisogna stare attenti il consiglio che dà Sauro è un consiglio saggio giustamente non fate un trattamento poi abbandonatele a loro stesse no certo perché come si dice una pianta di pesche che faccio il trattamento per la bulla e poi l'anno dopo non lo faccio perché l'ho fatto l'anno prima cioè una un trattamento conservativo ne basta uno all'anno con con una spesa irrisoria fa sì che la pianta non venga riattaccata se uno ci tiene insomma all'arredamento urbano della casa insomma o altro praticamente deve fare questo se no non riesce quindi la pianta lui ve la salva avete visto prima erano quattro tronconi capitozzati e invece adesso la chioma ha ripreso però insomma bisogna avere cura delle proprie piante perché lui poi vi chiama e vi cicchetta se non fate le cose fate bene è vero io ho richiamato dei clienti per dire non tanto per rifai qualcosa controlla sempre i rametti perché io so che c'è questa problematica perché siccome che le piante secche che ci hanno ai bordi sui fossi o altro fanno da incubatoio per questo insetto quindi io li richiamo dico hai controllato la pianta divento massacrante però io visto che ho fatto un lavoro che loro non si rendono neanche conto che roba ci ho messo dentro da quant'è importante e poi perché magari me l'hai trascurato perché magari pensi che non sia niente riperdi la pianta io magari preferisco fare un sopralluogo gratuito e dire sì va bene tutto taglia il rametto sei a posto così oppure usa un insetticida che ti manda un prodotto che ti manda a comprare non che te lo porto io e dico magari dai una botta a te se non vuoi una consulenza una consulenza gratuita io la faccio sì eventualmente sì su quello che ho fatto Siaure è come la mamma hai messo la maglia di lana hai portato le guardiella fa uguale io li seguo paro paro come i fioli come i fioli io li seguo paro paro sì esattamente allora ecco insomma questo naturalmente noi usiamo una vena un po' così gioiosa nel presentarvi queste cose perché comunque il verde la natura deve stimolare anche un po' come dire no il nostro animo tu ci tieni perché insomma la soddisfazione è quella di vedere un po' le scommesse vinte no come quella di prima ma per me non mi rende conto la soddisfazione che mi dà quando vedo delle piante che tutti danno per disperso che le fonte autorevole danno per spacciata no la devi segare da fondo e questi trovano me che gli curo la pianta gli sta bene gli riprende vita e loro sono contento io sono più contento pure voglio dire quando è la fine è fatto un bel servizio non solo per il proprietario della pianta ma per tutto il nostro habitat e la nostra morfologia del territorio perché insomma una pianta in meno non è sempre non è mai una cosa bella allora vediamo altre foto perché ci hai portato altre foto anche di altre piante anche questo sempre nuovo no? sì questo dell'anno scorso un olmo nuovo un olmo sui 150 anni però praticamente questo qui era la graffiosi l'aveva preso da parte e parte l'agricoltore è evoluto un agricoltore è evoluto ha 83 anni si chiama Verdini Vito e ha trovato il numero di telefono mio mi sembra tramite voi e l'ha visto e mi ha chiamato e io gli ho detto c'è da fare una bella opera di pulizia di potatura e lui me l'ha fatto ecco questa è stata l'olmo come era con la parte secca e come è diventato dopo fa brutto ha potato perché qui diciamo che l'insetto è passato da parte a parte mi dicevi? sì la chioma l'ha divisa a metà e la divisa a metà praticamente però ha ripreso l'altra foto che adesso è quella della Riccardo ecco questa qui praticamente è stata fatta alla fine d'agosto l'altro l'altro intervento è stato fatto mi sembra ai primi di giugno ecco qua guarda che bella foto questa l'ho fatta ieri ieri? questa è di ieri questa l'ho fatta ieri sì l'ho fatta ieri perché doveva venire da voi quindi insomma guardate che bel risultato e ancora non è finita perché prossimo anno sarà ancora più rigogliosa però l'agricoltore l'agricoltore mi ha fatto rifare a preteso un altro trattamento su foglia su foglia come dicevi prima come dicevo prima perché ha capito che l'attacco di questo scolitide di questo insetto è continuo e quindi se non gli fai un trattamento una volta all'anno quando c'è l'attacco la pianta riprende la malattia e quindi la perdi è quell'insetto che abbiamo visto prima esattamente lo scolitide e del periodo è questo? questo è più o meno? siamo più avanti di un mese come stagione perché non ha fatto l'inverno quindi ci troviamo chi c'è l'orto lo sa ci troviamo da tutto afidi cimici asiatiche più ne ha più ne metta insomma senza validi prodotti alternativi io molte volte faccio usare cicche di sigaretta faccio mettere 20 cicche di sigaretta fumate in un litro d'acqua poi le faccio filtrare sì quelle le ho viste anch'io appese a no questo non è un'altra cosa ma queste qui faccio mettere 20 cicche di sigaretta su un litro d'acqua la faccio filtrare e poi chi c'è pomodori con gli afidi o con la cimice una volta filtrata la spruzza paro paro sulla pianta e praticamente uccide sia la cimice che gli afidi capito io non fumo vabbè però comunque questo è un periodo in cui chi va per campagna ha il suo da fare molto sì 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 in particolare con la cimice asiatica che è arrivata e assomiglia alla classica coccinella che ha sette puntini rossi e mangia gli afidi invece questa qua mangia proprio le foglie pulisce la pianta e dei puntini non ce ne ha sette ma ce ne ha una miriade una miriade la strisciate la classica ho capito però comunque il periodo più o meno per fare questi approcci alle piante è questo è questo appena ti accorgi che c'è un problema da chiamare subito è il momento giusto a chi ci tiene chi naturalmente vabbè chi ci tiene a chi fa arredamento perché fa anche arredo insomma c'è una pianta come quello che abbiamo dietro le spalle insomma fa arredamento se tu una casa rimessa nuova tu perdi una pianta o una quercia colpita da ruoli di legno è chiaro che hai perso questa quanti anni ha questa pianta questa è grossa dei 160 ai 200 però 200 anni è ancora lì vedete insomma con le bottigliette attaccate dipendo l'agricoltura sembrano delle flevo mi ha dato il whatsapp tutto contento tu pensa io sarò contento certo sono delle flevo allora però non è soltanto l'olmo che tu tratti ci sono anche altre piante giusto? cioè io non ho piante in pratica le curo tutto però però se è possibile anche queste queste sono degli olmi secchi questi sono secchi praticamente e questi sono olmi già curati praticamente questa era una villa una villa in campagna l'aveva comprata proprio per gli olmi e la metà li ha distrutti perché sono seccati prima che che conoscesse me dopo che mi ha conosciuto gli olmi ha ripreso tutta soddisfatta e anche lei mi ha chiamato perché le foto di quelli secchi erano dello scorso anno però mi ha richiamato i primi di maggio o fine aprile mi rifai il trattamento annuale Lei è una laureata, si chiama Silvia, in scienze naturali e mi ha richiamato alla fine d'aprile o ai primi di maggio prima che avvenisse l'attacco dello scoliti dell'insetto e infatti ce l'ha perfetta le piante. Quindi insomma abbiamo visto nelle foto che il risultato è sicuramente rimarchevole e anche gli abeti, sbaglio? Sì, l'abete è l'albero del Natale classico, questo qui è un abete, c'ha il muretto come punto di riferimento, questo si stava seccando Si vede nel mezzo e anche in basso, la parte destra si stava seccando completamente e questo mi ero anche dimenticato, quest'anno passando mi aveva richiamato per un'altra cosa e ho rivisto l'abete curato e sono rimasto, eccolo qua, guardate che bello, è bellissimo Il muro fa da riferimento, sono rimasto a bocca aperta, mi sono meravigliato da me, nel senso che so quello che metto dentro questo aveva un cancro o un corineo del cipresso, è quello che prende all'olivo australiano o a dei tipi di siepi, prende corineo o cancro E questo qui, ecco, è tornato nuovo Bellissimo, possiamo proporgli di portarlo in piazza per il prossimo Natale No, quello ci tiene in modo... Ci tiene, ci tiene, no no, ma avete visto, è veramente bello E quindi, insomma, è una tecnica, è una terapia che tu puoi fare a qualsiasi pianta d'alto fusto Naturalmente se vedo, sì, dopo la puoi fare per l'oidio, contro l'oidio, se c'hanno affidi, se c'hai una pianta alta a 20 metri cioè non è che arrivi su con lo spruzzino, bisogna che fai l'endoterapia, se c'hai l'oidio, quella muffa bianca, fai l'endoterapia Se curano decine da malattia con l'endoterapia, praticamente E le piante le salvi tutte, le salvi tutte se è salvabile Chiaro, se tu mi hai una pianta che è morta, c'ha un caccetto da una parte, è chiaro che io non riesco a salvarla Però in linea di massima, a oggi, c'ho un 98% di successo Il 2% ce l'ho perché ci ho voluto provare così, tanto per Oppure perché è troppo tardi magari È troppo tardi, però il 2% ce l'ho per, come la pianta, quella che ho provato lì, la prima, la seconda che abbiamo visto, è spellacchiata E io quella ci ho provato tanto per, e invece mi è venuto bene Però comunque sia il 98% delle piante non se li conoscono Sì, devo dire che il primo e il dopo è quanto mai efficace in questo caso Avete visto con i vostri occhi, insomma, l'albero è chiaramente lo stesso che la foto è quella Non c'è trucco, non c'è inganno Quindi sapete che in questo periodo si possono affrontare queste tematiche Chiaramente se avete problematiche di questo tipo per le vostre piante da alto fusto Però, quindi, se volete anche andarvi a rivedere le puntate precedenti C'è appunto Endoterapia 2, Endoterapia 1, insomma, c'è praticamente le puntate vecchie sul nostro podcast E quindi vi andate a rivedere perché ci sono anche lì tante foto bellissime di alberi e di cose che Sauro ci ha portato nel tempo E quindi potete fare un refresh, ma sappiate che il periodo è questo Sì, 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 certo, ma su YouTube sta spopolando Ecco Nel senso che mi hanno trovato dall'Abruzzo, dall'Umbria, guardando, cercando Endoterapia E' venuto fuori il servizio Il servizio E mi hanno chiamato pure da Foligno, mi hanno chiamato da Terra Bene, quindi la parola chiave è quella che vedete sulle nostre zucche Endoterapia Allora, però, giusto per il tempo che corriamo e il momento che è contingente Hai messo a punto anche qualcos'altro C'abbiamo un filmatino che lo vogliamo lanciare Se Riccardo Sora dalla regia ce lo lancia, lo commentiamo insieme Ecco qua, che cosa stai facendo qui? Questa è una disinfestazione a degli uffici Disinfestazione, non sanificazione Ecco, specifichiamo Praticamente negli uffici c'erano parecchi insetti piccolini che gli arrivavano dall'esterno E acari, soprattutto acari E praticamente ogni volta c'era un prurito micidiale E allora ho trovato questo apparecchietto lì Questo apparecchietto che usano gli apicoltori Perché praticamente la usano per curare la varroa Loro mettono una caricida dentro Io metto dentro un insetticida a uso civile Che praticamente viene vaporizzato E c'è in pratica un olio Dentro lo spruzzatore c'è un olio di paraffina E c'è un insetticida naturale Quello che si usa Sì Però è l'olio che lì fa da collante Non sporca niente Non unge niente o altro Perché l'olio è vaporizzato Però rimane attaccato lì E se c'è un altro filmato Dopo una settimana Ecco, vediamo No, questo non è sette giorni Questo ha dieci giorni Ancora stanno morendo Considerate che l'ufficio Viene spazzato Tutte le mattine viene spazzato Ecco qua O acari Se c'è dentro casa Scarafaggi o formiche Anche per chi soffre di allergie Chi è allergico agli acari Agli acari in particolare Sì Quindi sappiate che questa tipologia di intervento Può essere È meno invasiva della roba liquida La roba liquida Se c'è carte o altro Intanto non penetra come il fumogeno Il fumo va per tutto Invece se c'è uno spruzzo Riccardo lo possiamo rivedere Il filmato Quello dell'intervento Così Riguardiamo un attimo Proprio come Sauro Utilizza Lo strumento Eccolo qua Sei proprio tutto imbracato E il fuminigino È quello che esce Dalle strutture Adesso lì Quello è l'ufficio Ma io venivo da un magazzino Alto 12 metri E lungo Una settantina di metri E praticamente Che è il capannone D'un consorso agrario E praticamente L'ha riempito completamente I 12 metri di volta Eccolo qua Questo l'ho fatto su un capannone In cui andrà il grano dentro C'erano i mezzi agricoli Questo è l'altro capannone Alto 12 metri Vedete come agisce Come il fumo Arriva praticamente dappertutto Praticamente ha coperto tutto Ecco perché C'è l'imbracatura Il casco Con il doppio filtro Perché questa è una roba Cioè non è tossica Però non fa manco bene È meglio che se la respirano gli insetti È sicuro Infatti sono stato Va bene Insomma avete capito Che in questo periodo È anche il caso Di proteggerci Da questi Acari O da questi insetti Sauro ha anche lì Il suo rimedio Come avete visto Molto efficace Avete visto insomma Anche lì le foto Parlano Per ogni prova Perché insomma Avete visto il risultato Degli insetti morti Sul pavimento E quindi insomma L'intervento è andato A buon fine Ma sì È stato sperimentale È stato l'intervento Perché io Appena ho visto la macchinetta Che lo stavano usando Per Per altro Per le api Allora io subito Mi si è accesa la lampadina Ecco Perché io usavo Usavo sì dei fumogeni Ma molto costosi Se si accendevano Ma non efficaci come questo Come questo Invece Il risultato c'è stato Benissimo Quindi Problemi Di secchezza Di albero Di attacchi Da insetti Che purtroppo Vi riducono Insomma Le piante A degli arbusti secchi C'è il rimedio Con l'endoterapia Sauro Cerca di portarle A nuova vita Sì Rispondo a tutti Faccio Faccio Sopralluogo Molte volte Mi mandano Le foto Via Whatsapp Gli faccio Un preventivo Norma Insomma Non Cioè in pratica Se ci metto le mani Garantisco anche il risultato Insomma Non è che Benissimo Gli amanti della natura E soprattutto Delle piante Saranno contenti C'è anche la possibilità Appunto Di disinfestare Gli ambienti Di lavoro E i magazzini Benissimo Grazie È un periodo Questo in cui Ce n'è Da fare Abbiamo sentito Sia in campagna Che anche All'interno Di nostri giardini Quindi Speriamo di avervi dato Un'utile informazione In questo spazio Di approfondimento Ringraziamo Sauro Allegrezza Per essere stato qui Con la sua Travolgente Empatia E Grazie a tutti voi Per averci seguito In questo spazio Di approfondimento Arrivederci alle prossime Buonasera Sauro Buonasera a tutti Buonasera a tutti